Buongiorno, buonasera a tutti. Oggi la storia dei due discepoli che scappano da Gerusalemme perché non credono che Gesù è risorto, non hanno capito questa parola e questa testimonianza delle persone che sono state a vedere il suo corpo e non l'hanno trovato. Scappano, anche se Gesù già ha risorto, ma loro scappano pensando che nulla è vero. Ed ecco, ascoltate la storia. Vieni Spirito Santo, apri la mia mente perché posso riconoscere Gesù anche se sembra che sta accanto a me, parla con me e io non lo vedo, non lo riconosco. Fammi sentire ardore nel mio cuore, fammi percepire la presenza di Gesù proprio ora con me. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro, che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Creopa, gli disse, tu solo sei così forestiero in Gerusalemme, da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò, che cosa? Gli risposero, tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino, al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati a sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicino al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. A volte persone mi dicono, Don ma io sono credente ma pratico poco, cioè non è che frequento la Chiesa. Infatti questa parola Chiesa spesso diventa una chiave proprio, forse un'accusa quasi in questo contesto perché sembra che la Chiesa è un male del mondo. A volte è proprio questo. Ma io vedo la Chiesa bellissima perché porta annuncio di Gesù. La Chiesa non è così tanto gerarchia, anche se lo è anche, ma non è questo così tanto importante quanto la missione della Chiesa. E la Chiesa vedo qui, in questa Chiesa, quando si raduna il popolo che crede, ascolta la parola di Dio, condivide l'esperienza di Dio uno con l'altro. Ed ecco qui si realizza questa missione. Parlo di questo perché oggi nel Vangelo discepoli riconoscono Gesù nello spezzare il pane, nel gesto che facevano prima sempre con lui e poi non hanno creduto. E guarda, lo riconoscono di nuovo, proprio lì, nel spezzare del pane. Vi devo dire che la Chiesa, quindi comunità dei credenti, qui di Vingone, è bella proprio per questo, perché spezza insieme il pane, perché ascolta la sua parola, perché fa insieme cammino, forse spesso anche nella direzione sbagliata, ma riconosce Gesù Cristo e così ritorna subito a Gerusalemme, ritorna subito lì dove incontra Cristo, vivo, risorto. Io penso che è per questo così tanto importante la domenica, forse anche giornate feriali, però la domenica particolarmente, dove ci si incontra tutti, dove bene, mi piace quando si rimane ancora sulla piazza della nostra Chiesa, si rimane proprio, si racconta un pochino la giornata e forse quando emergono in queste chiacchiere, queste parole che si dice, Don Thomas, ma Dio è grande, Dio è grande, mi ha fatto questo in questa settimana, mi ha fatto l'altro, io l'ho riconosciuto. E quando questi racconti si cominciano a realizzare, quando si raccontano l'altro, ecco la Chiesa viva e fa la sua missione, parrocchia, Chiesa, perché si condivide Dio che opera oggi, ora. E così lo stesso l'hanno fatto i discepoli di Emos di oggi, perché loro prima con la paura vanno via in direzione opposta a quella dove è ora Gesù Cristo, dove c'è la comunità dei credenti, dei discepoli che ancora sono rimasti nella preghiera, forse amareggiati tutti, però nella preghiera, vanno via, ma poi dopo subito ritornano per raccontare infatti, guarda, apparso anche a noi, e quegli altri raccontano, anche a noi, guarda, eccoci, qui c'è la gioia, qui c'è la condivisione che è così tanto necessaria. Questa è la Chiesa che amo. Desidera anche te questa Chiesa e fai parte di questa Chiesa. Buona giornata. Ciao.